Ci troviamo al comunale di Montemarcone di Atessa per la gara dei giovanissimi, seconda fase del campionato per la Coppa Provincia tra la Val di Sancro e la Virtus Castelfrentano. Qua c'è la fase di riscaldamento, qua ci sono i nostri ragazzi della Virtus Castelfrentano, c'è il mister Gabriele di Felice, la c'è anche il mister Jarlori, il blocco è una panchina un po' corta, qua ci sono i ragazzi della Val di Sancro. E' la fase di riscaldamento, prima della gara prevista per le 15.30 qua al comunale di Montemarcone di Atessa. E' la seconda gara di questa fase del campionato Coppa Provincia, la prima gara disputatasi della vittoria di Via Nazionale di domenica scorsa, c'è stato il pareggio 2 a 2 tra la Virtus Castelfrentano e la Virtus Lanciano 1924. Alle prossime riprese con l'entrata in campo delle due compagini.